Manpower investe su Genova in un momento di difficoltà ancora per Genova, che risente ancora del crore del Morandi e un momento non proprio felice anche per l'economia in genere, dal coronavirus all'arresto dell'industria italiana. Quindi un passo importante su Genova. Come mai avete scelto Genova per questo nuovo investimento? Noi siamo sulla piazza di Genova da 22 anni, quindi con due filiali che per 10 anni hanno lavorato su questo territorio in maniera veramente importante e in maniera egregia. Continuiamo a farlo con una soluzione nuova, un modello organizzativo nuovo che è appunto questo hub al settimo piano di una delle strutture più innovative e più moderne della città. Lo facciamo perché vogliamo essere vicini alla città in questo momento, siamo partner della costruzione e della ricostruzione del Ponte Morandi perché ci crediamo, perché ci teniamo e perché in 22 anni abbiamo dato lavoro e continueremo a dare lavoro alle candidati che cercano lavoro in questo territorio. Lo facciamo con un team di 10 professionisti guidati dal nostro district manager, la dottoressa Francesca Ceresola che lavora con noi da 20 anni, che conosce perfettamente tutto il territorio, tutte le peculiarità, tutti i cambiamenti del territorio che guida un team di 10 colleghi specializzati, verticalizzati, con un'anzianità importante su tutto il territorio di Genova. Oggi l'inaugurazione della sede con presenza istituzionale ma anche la presenza di un vostro partner sul territorio, un partner sportivo, è così? Due partner sportivi, sia la Sampdoria che il Genova. Manpower è vicino al mondo sportivo perché crediamo nel talento, nel talento dei giovani e lo sport esprime proprio queste caratteristiche, questi valori che noi riconosciamo nella nostra attività quotidiana.